Alberia, società di consulenza specializzata nell'organizzazione e sviluppo delle risorse umane, lancia una divisione dedicata alle medie imprese, una piattaforma di digitalizzazione dei processi HR che cerca di rispondere alla crescente necessità delle aziende di avere soluzioni smart e flessibili. A parlarne è il CEO Massimo Genova. Alberia nasce alla fine del 2010 con un focus molto forte su alcuni ambiti che sono l'ambito HR e l'ambito sales. Per questi due ambiti i servizi che Alberia mette a disposizione sono fondamentalmente servizi di consulenza, di formazione e soluzioni tecnologiche. E questa è un po' la nostra caratteristica distintiva in quanto nel mercato abbiamo aziende che vendono soltanto servizi di consulenza e abbiamo aziende che vendono soluzioni tecnologiche. E lo stesso Genova spiegare la ragione per cui questi ambiti sono stati accorpati. Perché molto spesso se noi offriamo soltanto i servizi di consulenza, lasciamo al cliente il problema poi dell'implementazione. E allo stesso modo le aziende che vendono soltanto i servizi tecnologici, di fatto spesso non coprono in modo puntuale le competenze necessarie che sono collegate ai servizi che implementano. Forte di un'esperienza con grandi aziende italiane e multinazionali che da anni affrontano il tema della gestione delle risorse umane ora Alberia ha deciso di concentrarsi sulle medie imprese che hanno bisogno di strutture organizzative più snelle ed efficaci. Abbiamo creato una business unit dedicata alle medie aziende per diverse ragioni. Uno perché riteniamo che il tema della gestione delle risorse umane nelle medie aziende italiane sia un tema oggi particolarmente sentito. Due perché riteniamo che l'esperienza che abbiamo fatto nei grandi contesti organizzativi, quindi parlo di aziende veramente molto molto grandi, con decine di migliaia di persone, strutture molto complesse, possa essere un grande valore aggiunto anche per le medie aziende. Anche perché poi le nostre soluzioni tecnologiche hanno al loro interno modelli di gestione e processi, peraltro facilissimamente configurabili senza scrivere una riga di codice, che possono dare un boost alle medie aziende per allinearsi il più velocemente possibile a quelle che sono le loro esigenze oggi di digitalizzazione e di risposta ai contesti del mercato in cui operano. Tra le principali attività di Alveria c'è il monitoraggio costante del costo del lavoro, che incide in media del 30-35% sui bilanci delle aziende. La cosa paradossale è che sul costo del lavoro c'è grande attenzione ma quasi sempre a consuntivo. Oggi noi abbiamo a disposizione delle soluzioni tecnologiche, peraltro che noi abbiamo disponibili da subito, che consentono di monitorare il fenomeno del costo in tutta la sua vita, anche con modelli di tipo previsionale.